Il 2022 è stato un anno faticoso ma vissuto con entusiasmo e con grande energia da parte di tutti. Nella cornice della rinnovata Darsena Borghese, il sindaco di Fano Massimo Seria ha ripercorso tutti i mesi di attività nella tradizionale conferenza di fine anno. Tanti gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione, dall'attenzione della persona sotto diversi aspetti, all'efficientamento nell'avvio delle scuole di Nido, uniche in provincia del 7 settembre scorso, all'ulteriore riconoscimento del servizio nelle mense scolastiche. Dopo due anni di pandemia ci aspettavamo che le cose potessero solo migliorare. In realtà il 2022 è stato un anno che ci ha riservato tante sorprese, una crisi internazionale, una guerra, il caro energie, emergenze che inevitabilmente hanno influito anche sulla nostra attività, creando disagi, creando difficoltà anche economiche. Però posso dire che oggi, a due giorni dal capodanno, gli obiettivi li abbiamo raggiunti tutti quanti. È stato un anno intenso di progettazione, di partecipazioni a bandi per avere risorse del PNRR, ultimazione di cantieri già avviati, ma soprattutto siamo riusciti a fare tutta una serie di affidamenti e di gare che vedranno poi la loro realizzazione degli interventi nel 2023. Ma c'è stato anche un anno di attenzione verso la persona, verso il disagio, perché se questa situazione, questa crisi ha creato difficoltà all'amministrazione, lo ha creato anche alle famiglie, alle tante persone. Allora anche qui un'attenzione ai servizi alla persona, aiuti anche economici alle fasce di disagio, al disagio abitativo, dove abbiamo messo risorse veramente importanti di aiuti concreti. L'impegno più corposo sarà per le opere pubbliche. Infatti il 2023, aggiunto Seri, sarà un anno che vedrà diversi cantieri sul territorio per un valore di 50 milioni di euro che cambieranno il volto della città. Alcune vedranno l'ultimazione nel 2024, dal waterfront Sassonia e Torrette, da Viale Battisti, dal passeggiato dell'Isipo, l'ex area dell'Agi, piazza Marcolini, piazza Andrea Costa, il parco, la casa del parco, l'attenzione anche sul nostro patrimonio, interventi che facciamo anche nelle case che ospitano associazioni. C'è tutto il lavoro dell'efficientamento energetico. E poi la riqualificazione e realizzazione di parcheggi come quelli al Foro Boario, al Cimitero e Viale Kennedy, il piano asfaltature, scogliere e nuovi impianti sportivi. Tanti lavori dalla nuova edilizia scolastica, riqualificazioni di piazze, interventi sul lungomare, nei quartieri, dall'arredo, manutenzione delle strade. Insomma, sono veramente tante e per dire abbiamo anche avuto l'ultima bella notizia di qualche giorno fa come un finanziamento significativo per la Biblioteca Federiciana. Insomma, sarà veramente un 2023 interessante, ma di grande raccolto, diciamo così.